Ciao, cioccolato fondente, oddio! Scali di cioccolato, barrette, cereali Aspetta, aspetta Lidl Cioccolato E' venuta una signora qua In questo reparto cioccolata E ha preso tipo 100 pezzi di cioccolato Perché c'è l'offerta Però io ho controllato tutti Secondo me il migliore è questo qua Perché c'ha meno grassi e non c'ha tanto zucchero Quanto grassi c'è? Questo qual'è? Quanto grassi c'è? Ma non c'ha l'olio di palma No, no? Questo c'ha 553 calorie e grassi 33 Comunque costa poco Tipo questo qua costa 75 centesimi Ma in altre parti costa di più Quindi conviene la pene Sì, è un po' di scanto Comunque siamo venuti qua perché mio padre Ma mamma ci ha abbandonato Ma mamma ci ha abbandonato Comunque mio padre mi ha detto Vai da Lidl Perché ci sono Ha messo tutte cose tipo giapponesi Asiatiche Quindi tipo per fare il sushi Quindi le vogliamo vedere queste cose Io volevo controllare queste barrette Che stanno in offerta a 2,59 Però ho paura che ci sia l'olio di palma Sai Nancy? Cacao Magari se leggo quello là in italiano Ha sciroppo di glucosio che già non mi piace Vabbè comunque Mi pare che non ci sia l'olio di palma Ma c'è lo sciroppo di glucosio Che ultimamente ho scoperto Che comunque va evitato Perché anche lui non è buono Quindi non le prendo Ah, questa è la sottomarca di quelli là Della Nestlé Vedi un po' se c'è l'olio di palma E anche questi qua Oddio questi No, non ci stanno Che cosa c'è? Sciroppo di glucosio Olio di palma Quindi non va bene Sciroppo di zucchero Sale da cucina Anel integrale C'è l'alente grani Prendimento Zucchero Questo è buono Mi piace Questi sì Ok, questi prendiamo Senza olio di palma E senza schifetto Sembrano abbastanza sani Ma volevo vedere Questi qua Che sono quelli integrali classici Che comunque Anzi no Anelli portanti Un euro in offerta Non quelle che hai preso tu Wow, pure in offerta Sì sì Questi sono il migliore Io ho preso i cavoletti Come sono buoni Eh, li facciamo nel forno Nel forno croccanti È vero Sì, stasera Vieni Sì, e vai I pan goccioli I pan goccioli pezzotti Consoliamoli Farina di frumento Latte Gozze di cioccolato Zucchero Latte Burro di cacao Emulsionante Le cilie Sono a uomo intero Burro No, no, no Mono e di gricei Dei aceri grassi No Qua c'è Dei grassi vegetali Non vabbè E questi Latte Sciroppo di glucoso Olio Semi di girasole Mono e di gricei Dei aceri grassi Vanno evitati Assolutamente Quindi Andiamo veloci qua Se schifezzine Non ci interessano I nostri amati I nostri amati Guasa Uno E uno Bianco Uno col tesamo E uno senza Questo Lo uso più per le cose dolci Tipo merende Tipo il filami sui Facemmo la ricetta E quello là Invece più per Salato Poi queste anche Queste però ce l'abbiamo già Sì ce l'abbiamo Ne vediamo quelle là Fondenti Sono buonissime Il nostro amato Cacao Questo è buonissimo E poi mi piace tanto Che sta in questa confezione E si mantiene proprio bene Le scagliette di mandorle Adoro Queste sono buone Sono buone Non hanno nulla Sì sì Solo mandorle affettate Sono buonissime Queste qua Prendiamole E questo che cos'è? Ah Mandorle tritate Questa è tipo la farina di mandorle Serve anche per i dolci Adesso Anenzi Pure la farina di nocciole Questa per fare Fare tipo i biscotti Le cose Secondo me è buona Che dici la prendiamo? Sì Questa pure è buona Guarda perché Ha olio extravergine d'oliva Non c'ha strutto E non c'ha olio di palma E oggi Sì sì Una pratina limenese Chissà poi se è buona A me serve che è stato anche integrale Però così già è buona Mi vedo il futuro Oggi vi facciamo vedere Quindi praticamente Tutto quello che noi compriamo Proprio di solito Non ce ne vediamo spedite qua E compriamo determinati alimenti C'è proprio una lista di cose Che prendiamo Anche l'avocado Eh Sono bellini sti cose Quasi sono anche scivolo Mamma che dici? Questi mi possono servire Ma dove sto? Questa ce l'ha Ma dove sto? Navig Mamma Questi mi possono servire Ma tu già ce l'ha No guarda Io sono pure fucsia No Ci servisci Ti abbiamo Non ci piace Non mamma La mamma ha detto no Poi che dobbiamo prendere? Le fragole no Perché sono pure stagione Anche se io le vorrei Le patate Le patate Le cose Scini giapponesi Do stanno? Che noi per quello siamo venute E queste sono le patate rosse Ah no Le patate dolci No Sono patate verdi Non ce la faccio questa nenzie È tutta scema Voi la vedete così? Odio fare la spesa Io amo fare la spesa Cioè non ce l'ho Amo proprio Oddio Invece degli oreo neo Invece degli oreo neo Vediamo listi neo Neo però Non è proprio bello Mi sto mangiando i biscotti neo Ovviamente c'è l'olio di panna Quindi il nonno Non è favore Che ha? Anacardi La droga di ne Anacardi È drogata di anacardi questa Una busta Una busta Questi vedi sono quelli naturali 3,49 costano comunque Ti voglio dire Eh beh ma una ci vuole Invece questi no Questi sono tostati e salati C'è un sacco di sale Quindi non hanno bene E invece questi Guarda questi A me mi piace Questi sono pieni di schifezze Olio di panna Vuole le noci Ti consoli Sì prendimi un pacchetto di noci Ma lei le noci Sì grazie Ma poi No ma quella poi le ha detto così Ma quello è vero Cioè quando andiamo a casa Mi puoi dare un anacardi Li deve l'omosinare E lei Solo uno Un altro solo Poi si rimangia L'impaccotta Qua passa così Guarda stanno le patatine Passa così E non guardare L'impaccotta E dice Sono finiti E li nasconde Cioè non c'è la faccia Ma tu che compri? Le farfalle Che devi fare queste farfalline? Le cose per il lavoro e a scuola Oh mamma Guarda questi che carini Oh come sono bellini Ma che si fa con questi? Sono molto sciabbi I monoglietti Che sono decorativi Ma non si fa nulla Non hanno uno scopo Diciamo Abbiamo trovato Dei meravigiosi stampi A 499 Non costano poco Vediamo Non usulo Se costa Io prenderei Le cose Io prenderei Le cose Le cose Così Così Tipo una ciambella Capito? È bello Questo qua Vediamo questo qua Ciambella Che c'è? Cookie Che bellina Quanto costa? 5 euro no? C'è la pecorella Non ce la faccio Non ce la faccio Mamma Che compri? Invescita mamma Ecco siamo arrivati finalmente Mamma molla tutto Siamo arrivati al reparto giapponese Finalmente Evviva E vai sushi rice C'è il sushi Il riso E vai Adesso compriamo un sacco di cose Questo qua Rebidiamo due pacchi Due ha detto papà Ok Scusa ha detto papà Papà Manco Guarda qua Il mango così Però è pieno di zucchero Non mi piace Ma controlliamo un po' Tutta sta roba Poi vi facciamo il video Faccio vedere Cosa si è salvato Da questa selezione naturale Di carità dolce Nenzi amara Così qua Olio di riso Ciao Salutino Una ragazza che ci ha riconosciuto Sei troppo bella Quando ci salutano Di solito Non tutte hanno il coraggio Invece lei E vai Bellissima Che ha fatto la pancake Sì Ottima Buonissima Con gli ingredienti di Carlita Sta roba buona E geniore Sta pure la mamma qua Sta roba bio Ciao No Donenzi che ha trovato Sei proprio una romanticona La pasta cuori Questa è bella C'è la barbabietola È un po' carina Hai visto una ragazza Ci ha salutato È un po' famosa Ha detto Dove sta la mamma Ti voleva salutare pure a te Non ti sei nascosta No ma era proprio Arrivata Riparto cosmetici Adesso li controllo un po' Questa è anche la solita pasta bio Integrale Controllo un po' Tutte le novità Questi qua sono tipo di Dele creme Delle robe nuove Comunque non vanno bene Sono piene di dimiticone Cocamide ecc Ho notato che praticamente Lidl Tutte le cose buone Prima o poi le tolgono da mezzo E quindi C'è una continua delusione C'è dolce deluso No ma veramente C'è incredibile Ogni volta qualcosa che era buono Non lo trovo Come il detergente Ricordate Quel detergente bellissimo Che non c'è più Sopra il formaggio spamabile Scrauso di Lidl E sotto quello di la Delphia Light Questo è molto migliore Perché ha meno calorie Meno grassi E' proprio di gran lunga superiore Anche più proteine E costa pure di meno Perché questo costa 69 Questo è quello light E la Delphia Light Di offerta 1.39 Quindi vince Missione compiuta Abbiamo comprato Tante cose Abbiamo comprato Tante cose Utili E meno utili Ciao Vi mandiamo un bacio grande Metteteci un pollice in su Se vi è piaciuto questo video E fateci sapere Nei commenti Se volete vedere Il video Con tutte le cose Oh io stavo andando di là Con tutte le cose Che abbiamo comprato Ciao ciao Mua 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 Mua